Un corso nuovo e antico perché dobbiamo immaginare che fino a non moltissimo tempo fa l'unico mezzo per spostarsi era il cavallo. Oggi è diventato legato più a aspetti particolari, maneggi e vi dicendo, ma continua ad essere indispensabile l'arte del maniscalco. Ogni cavallo ha lo zoccolo suo e deve essere fatto un lavoro che nello stesso tempo, io dico artigianale ed artistico, ci vuole un estro particolare. Permettere alle persone di scoprire, di avere questa capacità, questa qualità oppure poter sposare una passione che hanno avuto da sempre e non sapevano neanche come potessi avvicinare è l'obiettivo del corso. Dare quindi opportunità di poter sviluppare una competenza che si desidera avere e allo stesso tempo trovare un lavoro. Inseguire il lavoro noi lo facciamo in tutte le direzioni, vale certamente l'industria manifatturiera che è il settore trainante della regione, ma è importante anche andare a scoprire queste piccole nicchie che offrono, secondo me, opportunità importanti per chi cerca una sua dimensione nel lavoro, potendo mettere insieme un'arte e immagino anche una grande passione. La regione sostiene, tant'è che è promotrice di questo importante corso di formazione, qui a Montegiorgio, all'Ippodromo San Paolo, il luogo ideale per un corso di questo tipo, è stato detto già in precedenza, sono gli antichi mestieri ma di grande attualità. Tra l'altro è un corso che non guarda soltanto all'ippica tradizionale, quella delle corse, ma guarda ad esempio a quelli che sono i centri ippici, all'ippoterapia, pensiamo agli agriturismi dove si coltiva la passione per il cavallo. Quindi questo è molto importante e poi per l'attività che si svolge proprio qui all'Ippodromo San Paolo, credo che questo corso costituisca anche un elemento per il rilancio di questa struttura.